Buongiorno, anche se ti buongiorno, stamani non c'è nulla, niente di niente, niente di niente, farti la prima notizia sul Tireno, una notizia che? Purtroppo per noi è ben presente perché insomma ci ha lasciato Monica Cincerelli che è purtroppo un'amica, quindi una persona speciale per Porta azzurro, 47 anni, insomma un'amica davvero, una persona ampia. Quello che avevamo scritto è vero, è la verità, a volte no, a volte lo scrivi in circostanza, in circostanza, io non c'è circostanza, è una persona davvero che si trova sempre al momento giusto, con le parole giuste, sempre mai fuori posto, una persona solare, educata, pagata, bella, 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 e purtroppo stamani c'è il punto di rai. E' uscito infatti ieri quel messaggio che hanno mandato a Tireno, in cui ho risposto e ho visto che parecchi la pensano come me, poi altra gente, meno male, non la pensa come me, però io sinceramente come ho scritto, su minuti di silenzio, su queste cose così non ci so molto, cioè sarebbe meglio invece capire il perché di questi problemi, perché una volta fatto il punto di silenzio si avevano tutte le mani, chiuso lì, no, bisogna sapere perché negli ultimi anni, specialmente a Porta azzurro, perché ci hanno detto bene chi ci ha scritto, specialmente a Porta azzurro c'è un'incidenza altissima di morti giovani, per tumori, per primati del genere, invece di pensare se fa l'addobbio, non fa l'addobbio, o roba del genere, sarebbe il caso di capire. Qualcuno che ne sa più di noi, che magari in questo campo qui, magari dà una controllata se è una cosa, magari purtroppo occidentale, a cui non possiamo fare noi. Se è scuro, oppure se c'è effettivamente qualcosa. Che possa determinare determinate cose, noi insomma direi che c'è un saluto anche la famiglia Signorini, Ah giusto, giusto, anche io. Che è morto Piero, anche ieri, sono comunque capostipite del turismo, no? Eh sì, uno dei primi, quindi insomma diciamo che oggi proprio, no, oggi è una giornata. Una giornata, l'abbiamo aperta giusto davvero per fare un saluto. Sì, per fare un saluto. Per fare un saluto, soprattutto a Monica e alla famiglia, a cui va il nostro club. Ai fisici, ai bimbi, a tutti insomma, a tutti, a tutti loro. Anche perché i notizie non sono delle più belle. No, ma poi insomma passano anche il secondo piano. Il secondo piano, capito? Quindi non... Che c'è? Anche la nottina, quindi c'è un medico in meno dalle 20 alle 24, quindi cercate di mandare appunto il sopporto verso quell'ora perché tanto non c'è nessuno. Quindi cercate di... Ah Pinna che ha detto in zona arancione stoppa le ciratine, perché la paura è che se torna in zona arancione la gente inizia a fa' un po' come gli pare. Sì, stare attenti però magari la ciratina su Piemonti si sta anche bene a finire un po' d'aria. Sì, infatti, ragazzi ce ne andiamo. Oggi è andata così. Speriamo di trovarne... Non trovarne più mattina in questa maniera perché effettivamente è un po' troppo. Ci vediamo domani, fate bravi. Grazie. Grazie. Grazie.